Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli non dimenticate di supportarci innanzitutto ammirando questo video e iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche, così potrete ricevere tutte le novità ed esclusive riguardanti le notizie meteo in Italia. Quindi, come vi ho assicurato nei video precedenti, ritorna la neve sulle regioni meridionali e centrali dell'Italia a partire da sabato, 16 dicembre 2023. Nelle zone all'interno del cerchio rosso cadrà la neve, a quote basse ma con periodi intermittenti di stabilità, con una forte ondata di freddo e un notevole calo delle temperature. Quindi, in linea di massima, sabato la neve sarà presente su tutto il sud delle Marche, Umbria, Abruzzo e in diverse regioni di Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia. Cercheremo di fornirti maggiori dettagli in seguito e quando si avvicina la scadenza...